Ciao, benvenuti su Cartisia. Oggi vi propongo le frittelle morbidissime alla ricotta. Ragazzi, credetemi, sono davvero la fine del mondo. Le fate in 5 minuti, senza olio, senza burro. Leggere come una nuvola, super, mega, extra soffici. E morbidissime, si sciogliono in bocca. Mi raccomando, dovete assolutamente prepararle. Se le provate, lasciatemi un commento e fatemi sapere cosa ne pensate. 2 uova, un pizzico di sale, 120 g di zucchero semolato. Lavorate benissimo il vostro composto. Io utilizzo le uova L, formato quello grande. Lavorate con le fruste per almeno 3 minuti, perché dovete ottenere un composto chiaro e spumoso. 250 g di ricotta. Io utilizzo la classica ricotta da banco frigo, quella che trovate al supermercato vicino agli yogurt. Lavorate benissimo con la forchetta alla ricotta. Poi vi servirà la scorza grattugiata di un'arancia, oppure la scorza grattugiata di un limone. O se lo preferite, potete mettere tutte e due. Quindi la scorza di limone o di arancia. Quindi personalizzate le vostre frittelle. Mezza bustina di lievito per dolci. Lievito vanigliato. Un pizzico di cannella che ci sta benissimo. E poi vado a versare 180 g di farina 00 di grano tenero. Lavorate il tutto con la vostra forchetta. Una volta che avete amalgamato bene il tutto, potete friggere le vostre frittelle. È morbidissima la ricotta. L'olio vi servirà ben caldo, però mi raccomando, non utilizzate una fiamma troppo alta, perché le vostre frittelle si bruciano. E neanche una fiamma troppo bassa, se no risultano ontuose. Come vedete ho versato ancora un pizzico di cannella, perché la cannella a me piace tantissimo. Voi potete personalizzare come volete. Creo le mie frittelle con due cucchiai. Quindi prendo con un cucchiaio e poi con l'altro cucchiaio verso l'impasto nella padella. Potete friggere così le vostre frittelle. L'olio deve ricoprire metà delle vostre frittelle, come vedete qui in video. E poi le mettete in un piatto con carta assorbente. E subito dopo, dopo circa un minuto, le fate rotolare nello zucchero semolato. E le vostre frittelle extra morbide, extra soffici, ma soprattutto super golose, sono pronte per essere servite. Calde, sono davvero una vera e propria delizia. Che dirvi, io spero che questo video vi sia utile. Mi raccomando, iscrivetevi YouTube Cartesia e attivate la campanella, così ogni volta che pubblico un video vi arriverà subito la notifica e non perderete neanche un video. Seguitemi anche su Facebook, su Instagram oppure su TikTok come ricette golose di Cartesia. Vi mando un bacione grande grande e ci vediamo al prossimo video tutorial. Ciao, baci da Cartesia! Grazie a tutti!